Grazie Antonio e mi associo anche i ringraziamenti a tutte e tutti quelli che hanno contribuito a costruire questo spazio di cui condivido che c'era un assoluto bisogno e quindi anche grazie molte per l'invito. Penso in realtà che per leggere i recovery fans così come in generale le risposte che ci sono state finora che sono state messe in campo dai governi la lente sia la stessa che ci è stata proposta finora ovvero leggere all'interno del paradigma capitalista nel quale sono immerse nei rapporti di forza da cui sono prodotte. Diceva prima Alice credo che la pandemia sarà un moltiplicatore delle disuguaglianze. Penso che la battaglia in questo momento fondamentale sia il prevenire, l'impedire che anche la risposta della governance alla pandemia si traduca in un ulteriore moltiplicatore delle disuguaglianze perché sappiamo che l'automatismo del sistema tenderà a quello inevitabilmente. La parola, Antonio dicevi, è stata una risposta differente e penso che sia cruciale questo perché mi sembra almeno inizialmente che anche da parte di alcune componenti del movimento anche per la giustizia climatica si sia molto cavalcata la retorica del fatto che la risposta straordinaria che gli stati stanno mettendo in campo di fronte alla pandemia dimostrava che di fronte ad una crisi gli stati erano in grado di agire, sono in grado di mettere in campo misure straordinarie e senza precedenti e che questo allora è possibile anche davanti alla crisi climatica. Io credo ci siano sia problematico sotto vari punti di vista leggerlo in questo modo e che bisognerebbe andare un po' a guardare poi le differenze che ci sono tra la pandemia e la crisi climatica che è vero sono sicuramente parte dello stesso processo di crisi ecologica, sono sicuramente il prodotto dello stesso sistema capitalistico ma ci sono anche delle specificità di ognuna. La prima che mi viene in mente le descrive molto bene a mio parere Andrea Smalm in un articolo è quella della sequenzialità degli impatti che la pandemia e la crisi climatica hanno. Abbiamo visto che la pandemia quantomeno nell'immaginario collettivo dopo essere uscita da Wuhan e dall'Iran ha colpito quelle che sono regioni particolarmente ricche del mondo, primo tra tutti il nord Italia, poi ha iniziato a colpire addirittura esponenti dell'elite come Boris Johnson. Questo è una sequenzialità opposta rispetto alla crisi climatica che da un decennio almeno si è abbattuta su quelle che sono le popolazioni più povere e marginalizzate e che certamente di recente sta cominciando a impattare anche i paesi del nord globale. Siamo a Venezia che ne è un esempio ma la sequenzialità è totalmente opposta e questo deve farci riflettere anche e farci leggere anche sotto questa lente la differenza delle risposte che ci sono state da parte delle istituzioni perché abbiamo visto che nonostante ci sia un consenso scientifico e nonostante la crisi climatica sia sotto gli occhi di tutti queste risposte non sono state messe in campo e delle ragioni ci sono. C'è secondo me anche un altro elemento che va affrontato e cioè il fatto che mentre la pandemia benché fosse naturalmente un evento che ci si poteva aspettare è comunque un evento specifico che ha accolto tutti e tutte di sorpresa anche le istituzioni e questo l'abbiamo visto nei continui dietro front da parte ad esempio del governo inglese con Boris Johnson che prima diceva tutto aperto dopo tutto chiuso. Nel caso della crisi climatica questo elemento non c'è perché la crisi climatica è un processo molto più lungo che agisce su una temporalità molto diverso e che a mio parere in modo cruciale dà il tempo al sistema di riorganizzarsi e la riorganizzazione del sistema è infatti un processo che va avanti da almeno dagli anni 90 rispetto alla crisi climatica con l'emerge del paradigma della green economy e a mio parere ci sono anche altri elementi che vanno presi in considerazione. In generale io credo che se vogliamo leggere i recovery fund se vogliamo leggere tutte le altre risposte del sistema senza andarsi a perdere in tutte le varie baghe trassati eccetera bisogna fondamentalmente andare ad analizzare i rapporti di forza e quelli che sono gli obiettivi della classe dominante anche nel caso di risposte straordinarie come i recovery fund e quindi l'immissione di trilioni di euro nell'economia io credo ma penso possiamo anche essere d'accordo che l'obiettivo sia fondamentalmente la preservazione del sistema la preservazione il preservare il meccanismo di accumulazione anche a costo di un temporaneo cambiamento per quanto drastico come abbiamo visto con il lockdown e le altre misure di contenimento anche a costo di mettere denari pubblici nell'economia ma sempre con quell'obiettivo in mente e cioè una volta che questo è finito si ritorna al business as usual nel caso della crisi climatica quello di cui abbiamo bisogno è esattamente l'opposto ovvero di un cambiamento che è permanente e che non è un semplice mettere in pausa il modello per poi ricominciare una volta che la pandemia è scomparsa perché la crisi climatica è qui per rimanerci purtroppo quindi credo tutti questi elementi ci devono in qualche modo informare mentre andiamo a leggere appunto questi accordi per quanto storici e senza precedenti come recovery fund e poi naturalmente c'è la solita logica che è quella che conosciamo insomma del capitalismo dei disastri se guardiamo al recovery fund sì è vero c'è una quantità di denaro che è senza precedenti il denaro pubblico che viene immesso nell'economia quindi un intervento statale che davvero non ha precedenti poi però bisogna andare a vedere anche chi è che veicola questo denaro e chi è che ne beneficia e la logica è anche qui molto simile a quella che si è utilizzata dopo le varie crisi inclusa l'ultima del 2008 la logica è quella di mettere denaro nei mercati in particolare in questo caso direttamente verso le multinazionali cavalcando la retorica che poi ci sarà un effetto cioè i cold down con la crescita economica che beneficerà anche tutti gli altri questa logica sappiamo che non ha mai prodotto risultati sperati perché semplicemente non funziona così e quando andiamo a vedere anche quello che sta succedendo con ad esempio l'intervento della banca centrale europea vediamo che dei mi sembra 150 miliardi di euro di acquisti di bond chi sono i principali beneficiari sono i principali responsabili della pandemia della crisi ecologica della crisi climatica al primo posto ci sono come sempre le industrie esterattive tra cui anche Eni che ha ricevuto perlomeno 1 o 2 miliardi di euro solamente dalla banca centrale europea dall'inizio della pandemia e ci sono poi anche altri settori tra cui interessante quello croceristico siamo a Venezia e sappiamo che cosa significa il settore croceristico qui il settore croceristico è fino ad oggi indiscutibilmente quello che sta beneficiando maggiormente di denaro pubblico in Italia c'è un elemento che secondo me è davvero abberrante nel decreto, mi sembra fosse il decreto rilancio c'era un comma di quel decreto in cui si faceva espressamente il nome di fincantieri alla quale veniva concesso un'esenzione per poter beneficiare dei fondi della ripresa prima ancora che il decreto fosse entrato in vigore non mi è mai capitato in tutta la mia vita di vedere espressamente una multinazionale e menzionare un decreto così esplicitamente è un aspetto che è passato abbastanza inosservato ma che secondo me ci deve dare un po' la misura di quello che stiamo vivendo perché è una crisi senza precedenti anche la risposta del sistema è e sarà senza precedenti e questo lo dobbiamo tener a mente non per disperarci ma perché dobbiamo davvero scardinare queste dinamiche che purtroppo anche a causa del fatto che eravamo costretti e costrette a casa in molti casi sono passate un pochino indisturbate e sì ci sono stati tanti appelli affinché la ripresa fosse verde giusta e sostenibile va tutto bene non sarà una petizione che scardinerà quei rapporti di forza che fanno sì che la ripresa stia assumendo questi tratti e penso che sia il caso veramente di ricompattarci e andare a vedere cosa è successo fino adesso riprendere in mano anche quelle che erano un po' delle assunzioni, delle premesse, delle strategie che avevamo prima della pandemia e capire come quello che è successo deve andare a informarle quali sono i mutamenti che richiedono nuove strategie ma soprattutto nuove coalizioni perché penso che di questo ce ne sia davvero un assoluto bisogno mi faceva riflettere prima a quello che diceva Alice su come la cura si è diventata poi si è stata trasformata in un ingranaggio capitalistico c'è stato un momento quando il primo pacchetto di fondi che è stato lanciato dalla Banca per gli investimenti europei che era ovviamente il solito pacchetto di fondi per le banche e immediatamente si è scatenata una chiamata da parte di tante ONG che invitavano a gran voce la BEI la Banca per gli investimenti europei a investire nella sanità no alle banche sia alla sanità che è qualcosa che a me terrorizza perché la privatizzazione della sanità italiana è stata orchestrata di fatto dalla Banca per gli investimenti europei c'è il ruolo della Banca per gli investimenti europei in tutte le riforme di privatizzazione della sanità in Europa e quando vediamo ONG cosiddetta ambientalistica o per la giustizia a chiedere a criticamente che la BEI investa nella sanità io penso che ci debba anche cominciare a fare riflette su quali sono i nostri alleati e chi non lo è perché se c'è una cosa che credo su cui credo siamo tutti d'accordo è che se prima ci poteva essere un confronto o in qualche modo una dialettica tra i cosiddetti realisti climatici e tutto quel fronte di cui forse la Commissione Europea oggi è un po' l'espressione istituzionale ovvero quel tentativo di riconciliare crescita e riconversione ecologica che è un tentativo di cui tra l'altro si va parlando veramente dagli inizi degli anni 90 oggi non credo che ci sia più una dialettica possibile se non quella del conflitto mi fanno paura i negazionisti tanto quanto mi fanno paura quelli che dicono che possiamo trovare un modo di procedere in modo incrementale non c'è un modo incrementale guardiamo semplicemente a come è stata sfruttata la pandemia da alcuni alcune delle multinazionali che sono forse l'espressione più violenta del capitalismo ci sono stati casi in cui grazie al lockdown sono stati imposti progetti tra cui gasdotti e quant'altro in territori indigeni in cui già il sistema sanitario era in crisi in cui già sappiamo che chiaramente una pandemia può avere effetti devastanti non c'è un dialogo possibile con questi attori non ci può essere non c'è un terreno comune l'unico terreno è quello del conflitto finché non smantelliamo questi attori io non credo che possiamo parlare di riconversione non possiamo parlare di giustizia ho quasi finito per cui penso sì tante cose sono cambiate e naturalmente insomma ci ha preso tutti e tutte alla sorpresa e chiaramente sono stati mesi complessi ma penso che sia il momento di veramente ritornare a dove eravamo prima riprendere in mano le redini perché era uno spazio davvero promettente quello in cui eravamo cioè non solo l'esplosione dei movimenti per la giustizia climatica ma anche soprattutto c'era finalmente una strategia coerente tra movimenti e anche alcuni pezzi della società civile in cui si stava cominciando davvero a intaccare quello che è il potere di alcune di queste multinazionali e del sistema che rappresentano è vero che siamo stati chiusi in casa è vero che c'è stato un impatto forte sui movimenti e sulla capacità di riprendersi le strade ma è anche vero che si sono aperti dei fronti che fino ad oggi erano impensabili pensiamo soltanto a tante delle premesse a tante delle logiche che ci venivano raccontate su come non fosse possibile un cambiamento repentino su come bisognasse procedere per vie incrementali su come non fosse possibile sospendere l'economia per un periodo di tempo io penso che tutte queste argomentazioni non abbiano veramente più uno spazio ontologico quasi su cui esistere penso che questo davvero apra a delle prospettive che sono potenzialmente trasformative e credo che sì il punto di partenza sia quello di immaginarci quali sono le convergenze e le alleanze da cui ripartire grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti